Nicola, ahia, Nicola, bravissima, 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 risponde Giammaria, Pietro, bravissimo Pietro, ahia, in comprensione, Giammaria, uh, che spizzicata! voce alta, voce più alta, voce più alta, Giammaria, ci siano, Gitri, Nicola, Giambardo, Invece più alta, chiamano trucchetti del mestiere, si chiama... Vado un po' più piano Non ce ne sono più Vado un po' più piano 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 Vado un po' più piano